cari amici di cronaca di cielo e terra eccoci a questo nuovo appuntamento dove continuiamo la nostra raccolta di personaggi la galleria di personaggi e lo facciamo continuiamo a farlo con Elena Bianchini Braglia ciao Elena ciao buonasera a tutti ecco Elena dopo il tuo ultimo intervento che abbiamo pubblicato sul canale sul merito insomma insomma come al solito hai parlato di risorgimento del periodo ecco che che va appunto dal insomma dalla presa di Roma in poi anche a Napoli all'interno al convegno di sud civiltà e molti ci hanno chiesto in merito proprio alle tue parole su manzoni quindi abbiamo voluto fare un video proprio su manzoni e ecco ci sono arrivate anche molte richieste che parlavano di un massone di un manzoni massone eccomandare magari andiamo anche a chiarire questo questo aspetto ma come prima domanda ecco visto che hai parlato di manzoni in ambito risorgimentale ti chiedo proprio se manzoni appunto era favorevole al risorgimento sì beh certo è vero il mio intervento a Napoli tirando in ballo manzoni ha suscitato qualche perplessità qualche domanda anche a me è stato chiesto anche privatamente mi hanno mi hanno mandato dei messaggi per chiedermi spiegazioni perché effettivamente andare a tirare in ballo ehm manzoni parlando di un del risorgimento come di un procedimento anticattolico e come di un grande attacco alla chiesa che non è ancora terminato sì si resta perplessi perché manzoni è un po' un'icona del cattolicesimo cioè da tanti cattolici è considerato lo scrittore cattolico per eccellenza è forse l'unico scrittore cattolico che viene insegnato nelle scuole con ancora ancora dopo magari vedremo anche un attimo questo aspetto eh con una certa enfasi quindi mh per tanti cattolici è una sorpresa effettivamente andare a pensare che manzoni abbia partecipato a un qualcosa che ehm di cattolico non aveva nulla e che anzi era eh smaccatamente contro il cattolicesimo quindi ehm sì è un discorso un po' delicato però eh che manzoni sia stato favorevole al risorgimento che sia stato un un liberale su questo eh direi che eh non non c'è ombra di dubbio lui non ha partecipato attivamente al risorgimento però la la sua formazione le sue idee erano molto vicine ai processi ottocenteschi diciamo così eh lui nasce come sappiamo sulla biografia andiamo via rapidi perché ce l'hanno insegnato a scuola 7 marzo del 1785 morirà il 22 maggio del 1873 a Milano eh già all'università Manzoni entra in contatto con eh ambienti già ansenisti attraverso alcuni insegnanti il professor Giuseppe Zola Pietro Tamburini eh subisce molto l'influenza di Vincenzo Monti che insomma eh sappiamo che idea aveva e anche in una certa misura benché sia molto vicino a lui per età di Ugo Foscolo e poi eh soprattutto il nel periodo eh parigino si notano queste eh queste influenze questa formazione fortemente legata agli ideali dell'illuminismo eh lui nel 1805 sappiamo viene invitato a Parigi da eh Carlo Imbonati che era il secondo insomma il secondo marito convivente diciamo così della madre eh Carlo Imbonati morirà prima del suo arrivo infatti poi Manzoni famosa lode in morte di Carlo Imbonati beh eh comunque lui dopo rimane a Parigi e frequenta gli ideologues eh nel salotto di Sophie de Condorcet gli ideologues erano un po' i diciamo gli eredi gli intellettuali illuministi eredi dei filosofi quindi quelli che avevano preparato eh tutto quel quell'humus culturale che poi avrebbe portato alla rivoluzione francese eh a Parigi viene combinato dalla madre di Manzoni il matrimonio con Enrichetta Blondel che sappiamo che sarà un spartiacque nella vita di Manzoni perché fino a quel momento Manzoni non ha nulla a che vedere con la religione è lontano dalla fede è lontano da Dio Enrichetta Blondel invece lo avvicinerà in un certo senso però è ancora siamo lontani tanto che quando lui conosce Enrichetta in una lettera a un amico Foriel eh scrive per descrivergliela e ne loda la gentilezza ai modi garbati e dice che eh ha due vantaggi secondo lui Enrichetta il primo è quella di non essere nobile il secondo è quella di essere protestante quindi Manzoni ancora diciamo ateo diciamo così comunque lontano dal dalla visione a una visione da ogni visione religiosa della vita però guarda caso ha un po' come tutti i patrioti eh come tutti i grandi protagonisti del risorgimento quella simpatia naturale istintiva per il protestantesimo e comincerà poi ad avvicinarsi alla fede con eh proprio dopo il matrimonio con Enrichetta in particolare quando eh Enrichetta si convertirà al cattolicesimo perché Enrichetta appunto è protestante è calvinista eh tra l'altro una famiglia legata a grandi banchieri ginevrini eh il 6 febbraio del 1808 viene celebrato il matrimonio in rito calvinista poi eh Enrichetta e e anche Alessandro Manzoni entrano in contatto con eh l'abate jansenista eh Eustachio d'Egola che convertirà Enrichetta al cattolicesimo quindi ehm per Manzoni inizierà un processo così di avvicinamento alla fede il quindici febbraio del 1810 viene celebrato il matrimonio con rito cattolico con un permesso speciale di Papa Pio VII e poi ehm c'è la con la conversione la famosa conversione di Manzoni che eh viene un po' diciamo romanzata viene un po' legata a un episodio più o meno leggendario che la vorrebbe quasi un'illuminazione una cosa istantanea il famoso miracolo di San Rocco è il 2 aprile del 1810 siamo nel pieno dei dei festeggiamenti a Parigi per il matrimonio di eh Napoleone con Maria Luisa d'Austria eh le strade sono affollate di gente Manzoni è in giro con la moglie a un certo punto spinto dalla dalla folla ehm perde di vista la moglie si perde e diviene una specie di attacco di panico che detta così fa anche un po' ridere però Manzoni teniamo presente che anche questo forse un po' ce lo ricordiamo dagli studi scolastici anche se in genere non viene spiegato bene era un po' era un po' nevrotico soffriva di disturbi nervosi aveva questi attacchi appunto di panico di agorofobia era era balbuziente era sempre spaventato non usciva volentieri di casa da solo voleva sempre essere accompagnato quindi perdere la moglie in mezzo alla folla lo manda nel panico allora si rifugia eh dentro a questa chiesa di San Rocco dove eh appunto dice di aver sentito una presenza divina che lo ha portato a pregare eh forse per la prima volta in vita sua poi si era serenato e uscito ha subito ritrovato la moglie quindi l'ha interpretato come appunto un intervento dal cielo e dopo da quel momento ha cominciato un serio percorso di eh avvicinamento alla fede e sempre però sotto la guida di sacerdoti eh ahimè giansenisti quindi o Eustacchio d'Egola o dopo eh monsignor Luigi Tosi che sarà anche vescovo di di Pavia ma che sarà fortemente influenzato da lei den janseniste che trasmetterà a Enrichetta e Alessandro Manzoni e il la sua vicinanza agli ideali del del risorgimento emerge anche dalle sue opere soprattutto ovviamente eh quelle giovanili nel milleottocento uno scrive addirittura un poemetto del trionfo della libertà che è un vero e proprio diciamo elogio del del giacobinismo della rivoluzione francese senza nessuna maschera senza quella quella dissimulazione che invece adotterà eh in seguito eh dopo eh lui si si entusiasmerà per eh l'esperienza di Gioacchino Murat in Italia e dopo il fallimento scriverà il proclama di di Rimini dove attribuirà al fatto di essere divisa in stati la debolezza del dell'Italia quindi eh comincia ad anticipare anche nei suoi scritti un'idea politica di unità d'Italia. Nel milottocentosedici nel conte di Carmagnola eh emerge la delusione per il congresso di Vienna e addirittura nel milottocentodiciassette Alessandro Manzoni avrà una sorta di crisi spirituale. Alessandro Manzoni il neoconvertito che aveva mh aveva avuto quell'entusiasmo per la fede dopo questo presunto vero presunto miracolo insomma comunque dopo questa esperienza spirituale significativa ecco eh va in crisi per perché perché si rende conto che la chiesa appoggia la restaurazione che non da dire intanto perché non avrebbe dovuto che cosa si aspettava però addirittura era talmente avverso all'idea della restaurazione che eh va in crisi lui spiritualmente a livello di fede per eh appunto l'appoggio politico della chiesa alla alla di fatto alla alla sconfitta del di Napoleone degli ideali della rivoluzione francese quindi le sue idee sono sono sempre sono ancora quelle. eh 1820-1821 scrive a Delchi il 5 maggio dove eh comincia a emergere l'idea della provvida sventura che poi eh nei promessi sposi diventerà la divina provvidenza di questa idea della provvida sventura da un punto di vista cattolico è è interessante addirittura più interessante della divina provvidenza questi grandi che nel momento in cui si trovano di fronte al dolore di fronte alla sofferenza di fronte alla sconfitta umana scoprono la fede quindi questa eh un'idea mh che sicuramente eh comunque che eh è cattolica che può essere utilizzata dai cattolici perché ecco in Manzoni ovviamente non tutto è da buttare via e questa è la ragione per cui è riuscito ad essere ovviamente eh a essere uno scrittore cattolico apprezzato anche da 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 larga parte della chiesa anche al suo tempo dopo lo vedremo quindi in Manzoni ci sono delle idee cattoliche buone eh è eh diciamo il suo pensiero politico che è fuorviante ed è questo tentativo di conciliare il cattolicesimo con il liberalismo che come vedremo ehm un tentativo eh assolutamente contrario a a a quello che è il cattolicesimo stesso eh quindi mh è lì l'errore però che nei suoi scritti ci siano dei cattolici dei concetti cattolici interessanti quello ovviamente non lo si può negare. Nella Delchi mh ovviamente c'è il chiaro riferimento se lo ricordiamo tutti dai tempi della scuola alle dominazioni straniere questa Italia in balia di popolazioni straniere dei Longobardi dei Franchi con il popolo eh un po' confuso che non ha una sua identità che non sa come reagire e quindi l'idea eh espressa già nella Delchi che l'Italia debba essere una d'arme eh di lingue d'altare e qui emerge anche sempre nella Delchi un'altra idea ehm nel nell'atto primo scena seconda il papa re delle preci cioè il papa che deve essere re solo delle preghiere cioè delle cose spirituali. Manzoni lancia qui l'idea di una separazione del potere temporale dal potere spirituale che è la grande lotta del risorgimento e il grande luogo comune del dell'ideologia post risorgimentale è quella che il potere temporale del papa sia una cosa sbagliata che va a detrimento del potere spirituale mentre noi sappiamo che è vero il contrario. Quindi ecco qui che Manzoni comincia a instillare quelle gocce di veleno che poi diventeranno eh ai noi eh le verità i nuovi dogmi anche del eh mondo cattolico e che all'epoca ancora ci si pensava poco all'epoca erano molti di più i cattolici che invece pensavano che il potere spirituale e il potere temporale del papa fossero due cose necessarie l'una all'altra. Eh marzo milottocento ventuno non ha bisogno di commenti è un'ode chiaramente scritta in onore dei primi moti liberali e quindi ecco vediamo eh in sintesi come Manzoni non partecipi attivamente ne sarebbe stato in grado alle lotte per l'indipendenza per l'unità d'Italia lotte del cosiddetto risorgimento ma partecipi in un modo forse ancora più importante profondo e duraturo cioè con la sua penna con le sue idee tanto che un garibaldino di Trieste Giuseppe Caprin eh alla alla morte di di Manzoni nell'ottocento settantatré e anche il centocinquantesimo parlerà di sciagura nazionale. Bene Elena eh venendo diciamo appunto alla eh al nocciolo della questione ecco i promessi sposi è un romanzo questo cattolico? Apparentemente sì in tanti in tanti lo hanno pensato almeno all'inizio anche tanti cattolici anche tra i cosiddetti intransigenti cioè quelli che proprio non ne volevano sapere di accettare eh dopo risorgimento la presa di Roma l'azione illegittima fatta eh nei confronti del Papa e della Chiesa perché eh sì eh i promessi sposi è un romanzo che apparentemente non non ha non ha prese di posizioni politiche chiare su queste questioni non ha eh è un romanzo è un romanzo cattolico è sempre stato definito un romanzo cattolico a scuola ehm ce lo hanno spacciato per il grande romanzo cattolico per eccellenza ripeto anzi forse l'unico romanzo cattolico della cultura italiana quindi tanti cattolici in buona fede si sono riconosciuti e si riconoscono nei promessi sposi ehm in realtà Manzoni anche qui mette qualche qualche goccia quasi impercettibile di 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 quel veleno oserei dire anche quasi dottrinale che porterà poi eh i cattolici diciamo moderni chiamiamoli così per per chiarezza nostra a eh rinnegare certe posizioni che la Chiesa aveva sempre avuto certi eh periodi anche storici di grande influenza della Chiesa e a sposare tanti luoghi comuni che oggi ben conosciamo e che a ben guardare si ritrovano raffigurati in tanti personaggi manzoniani quindi io penso che non non sia un caso innanzitutto i promessi sposi Manzoni li inizia nel nell'aprile del 1821 quindi subito dopo la delusione del del fallimento dei dei primi moti e il l'ambientazione è quella del dell'Italia durante la dominazione spagnola quindi nel seicento e c'è una una chiara denigrazione del dominio spagnolo descritto come un'età antieroica violenta dove non c'è giustizia e quindi sì è un attacco quantomeno indiretto se vogliamo alla Spagna cattolica e a un periodo in cui l'Italia era fortemente cattolica il seicento il grande il grande secolo cattolico della della riforma cattolica del del barocco del cioè e viene viene denigrato così come un periodo violento barbaro dove appunto quasi non ci sono valori e dove c'è bisogno di grandi rivendicazioni sociali cui Manzoni presenta anche si presenta anche con un aspetto quasi appunto da non diciamo da sovversivo perché lui sarà sempre un grande moderato però soprattutto nella prima stesura nel Fermo e Lucia abbiamo un Renzo che a tratti è sovversivo che si presenta anche un po' un po' violento molto rabbioso in questo suo odio per i cosiddetti tiranni ecco e Manzoni si presenta di fatto come un difensore del popolo dei diritti del popolo i suoi personaggi nei Promessi Sposi sono tutti personaggi sono tutti popolani però c'è anche da dire che lui li tratta un po' dall'alto verso il basso lui ha questo atteggiamento un po' aristocratico per cui i popolani comunque vengono descritti in una maniera abbastanza misera abbastanza ridicola Gramsci dirà Manzoni all'aria di difendere il popolo ma in realtà il popolo lo prende in giro lui userà anche un termine un po' più volgare e in effetti è un po' così quello di Manzoni in realtà è un romanzo borghese lui alla fine comunque mantiene una una grossa eh distanza tra i ceti sociali e questo si percepisce eh nel romanzo e poi mh abbiamo un già un concetto di patria se vogliamo ma molto molto famoso ehm Don Abbogno dice la patria è dove si sta bene eh Renzo dice tutto il mondo è paese quindi mh si ci lascia ci dipinge un'idea di italiani che non hanno una una idea precisa di patria ecco ehm come dicevo questo romanzo all'inizio inganna inganna insomma se si può dire poi qualcosa da salvare ripeto c'è infatti io credo che ci sia anche all'inizio un grande tentativo comunque di salvare quello che di cattolico c'è nei promessi sposi un grande tentativo fatto anche ripeto da quei cattolici che invece avevano mantenuto le idee molto chiare su quello che stava succedendo ad esempio Monaldo Leopardi eh Monaldo Leopardi si interroga sul manzoni si interroga con ehm i redattori della voce della verità di Modena quindi campioni del del legittimismo e del cattolicesimo diciamo sempre per intenderci intransigente non mi piace mettere gli aggettivi di fianco al termine cattolico perché un cattolico dovrebbe essere cattolico e basta queste differenze l'oggetto più volte sono nate proprio nel risorgimento quando hanno cominciato a dividere il mondo cattolico però ovviamente adesso per intenderci li usiamo Monaldo Leopardi scrive a Bartolomeo Veratti grande intellettuale cattolico modenese proprio interrogandosi sui promessi sposi gli chiede pure sarebbe che quel romanzo tanto applaudito contenesse nascosto il suo veleno io l'ho lessi con buona fede e me ne compiacqui con tutto il mondo ma ella mi dica qualche cosa sopra questo proposito e anche e anche Bartolomeo Veratti in Italia risponderà che sì che anche lui non non ci ha visto niente di male ripeto parliamo dei campioni del cattolicesimo legittimista quelli sempre attenti a scovare il nemico ovunque hanno buona fede non hanno pregiudizi nei confronti di Manzoni cioè benché conoscano ovviamente il suo passato però hanno comunque questo atteggiamento di buona accoglienza verso un romanzo che si propone come cattolico e che presenta personaggi cattolici e anche la civiltà cattolica la rivista dei gesuiti che è in prima linea nella battaglia contro appunto l'attacco alla chiesa fatto durante il risorgimento è in prima linea nella difesa dei valori della della società cristiana e che sarà molto critica con lo stesso Manzoni ecco anche la civiltà cattolica fin verso il 58 1858 1860 con Manzoni è molto è molto blanda gli concede il beneficio del dubbio appunto non ha pregiudizi lo definisce un uomo buono anche pio nei suoi traviamenti più illuso che colpevole poi le cose cambieranno perché Manzoni via via andrà sempre più prendendo posizione a favore del risorgimento soprattutto quando ci sarà l'attacco a Roma lui sarà favorevole quindi non lo si potrà più difendere quindi c'è questo tentativo ripeto di approcciarsi a una cosa che viene definita cattolica senza pregiudizi e questo è lodevole e c'è anche un tentativo anche questo di per sé lodevole che a volte dovremmo imparare un po anche noi di non lasciare tutto agli avversari cioè quando c'è un qualcosa di dubbio cioè noi vediamo gli avversari come sono sempre pronti ad accapparrarsi tutto anche forzando no si si appropriano di tutto e invece noi spesso no noi spesso buttiamo via il bambino con l'acqua sporca come dico io invece no un atteggiamento di prudenza che ci porta bene a valutare quello che effettivamente è da scartare e quello che no cercando magari anche di salvare salvabile io trovo che sia lodevole ovviamente finché si può quando non si può più non si fa più quindi a un certo punto manzoni dai cattolici che appunto ripeto avevano le idee chiare su quello che stava succedendo viene un po stigmatizzato in primis dalla civiltà cattolica e per gramsci come vi dicevo nei promessi sposi i popolani sono rappresentati in questa maniera un po un po ridicola che sembra appunto che manzoni li voglia prendere un po in giro e lui scrive sono rappresentanti come gente meschina angusta senza vita interiore ecco gramsci ovviamente parte da un presupposto diverso lui vede in manzoni l'aristocratico anche il cattolico paternalista e questo lo critica ma le sue parole non sono sbagliate soprattutto nel senza vita interiore se ci pensiamo tanti personaggi di manzoni sono descritti così tutti indaffarati nella vita terrena sì con una fede abbastanza quotidiana se vogliamo però non non viene descritta una particolare vita interiore una particolare spiritualità una particolare grandezza ecco sono in gran parte manzoni li definisce umili però anche lì bisogna chiedersi cosa sono gli umili gli umili come dice gustarti bon gli umili sono quelli che si abbassano ma per abbassarsi bisogna essere in alto un tentativo di arrivare a un'eguaglianza di stampo illuminista di stampo rivoluzionario in realtà un atto di orgoglio perché se sono tutti bassi nessuno deve abbassarsi ecco i manzoni mi sembra che arrivi un po a questo descrive dei personaggi che più che umili mi sembrano un po meschini e la stessa lucia è sembra una una damina una donnina impaurita timida non non è propriamente umile è è meschina è piccola è spaventata ecco non non hanno i personaggi di manzoni quella quella grandezza spirituale sono personaggi abbastanza meschini molto molto terra terra molto terreni molto legati anche alla vita terrena la materia la materialità non abbiamo delle dei grandi personaggi spirituali e quei pochi che ci sono manzoni ce li rappresenta come delle eccezioni pensiamo al cardinale borromeo lo stesso fra cristoporo mentre il prete tipo ecco è don abbondio e questa io la trovo una grande offesa alla chiesa cattolica ecco e la con se deve parla di una suore parla della monaca di monza ecco tra l'altro storpiando o in parte nascondendo la realtà storica della monaca di monza sappiamo che lui nel dipingere il personaggio di gertrude si rifà a virginia de leiva che un personaggio realmente esistito e lui riprende la virginia la vicenda di virginia de leiva fino a un certo punto cioè questa e la enfatizza anche un tipico atteggiamento romanzesco con la storia strappalapri che nella bambina che viene diciamo fin da piccola influenzata quasi quasi plagiata per portarla a scegliere la vita religiosa e poi contro la sua volontà la monaca reclusa che poi a un certo punto cede alla passione poi tutti questi delitti che vengono commessi ecco lì manzoni si vede che si compiace si diverte nel descrivere un po con anche atteggiamento scandalistico ma poi a virginia de leiva realmente storicamente cosa accade che viene scoperta viene interrogata dal cardinale borromeo che la trova colpevole la reclude per 14 anni in una cella una cella piccolissima quasi senza eh neanche eh l'aria una finestra talmente piccola che serviva a malapena per far passare l'aria necessaria a recitare l'ufficio e dopo 14 anni rinchiusa eh Federico di Borromeo la interroga e la trova redenta e la libera ma lei non accetta di essere liberata rimane nella cella a fare penitenza per il resto della vita e muore in odore di santità tanto che il cardinal Federico preparerà i documenti per la beatificazione e questo casualmente manzoni se lo dimentica lui ci dice solo la parte brutta la parte scandalistica e qui eh ha scritto una una bella pagina eh Bacchelli scrive il poeta aveva con tanta intensità esemplata incoronata nella sua gertrude la fatale e perditrice debolezza della passione che non seppe non ebbe la forza di ammettere alla poetica creazione la penitente la graziata l'eroica la risorta e questo eh aggiunge Bacchelli è sconcertante e scabroso è vero è anche scabroso perché ci chiediamo anche non ha saputo o non ha voluto cioè eh lui mette in luce quelli che sono i difetti dei religiosi le debolezze dei religiosi quegli stessi che poi diventeranno ripeto i luoghi comuni nella critica alla chiesa di un tempo e alla società cristiana ormai lo sentiamo tutti i giorni e le si appunto le donne obbligate a farsi monache eh uomini che andavano a fare i preti perché non c'avevano altro da fare non sapevano altrimenti cosa fare nella vita e appunto i preti i preti incapaci cinetti paurosi ne sentiamo tutti tutti i giorni e Manzoni ha perfettamente dipinto nei suoi personaggi questi questi appunto diciamo piccoli semi velenosi che poi si sono ingigantiti sono cresciuti sono diventati l'ossatura della grande demolizione della chiesa nell'opinione pubblica e quindi io qui non non riesco per quanto lui potesse essere in buona fede però non riesco a non vederci un una colpa grave o almeno un danno grave per la chiesa cattolica quindi ehm poi come dicevo i pochi personaggi positivi che ci sono sembrano quasi dell'eccezione qui eh la dice bene eh Giovanni Papini che scrive Manzoni non vede nel cattolicesimo se non un umanitarismo sociale anche questo se ci pensiamo è straordinariamente attuale moderno rappresenta un vescovo talmente grande che è difficile trovarlo nella vita e nella storia forché nei santi rappresenta un frate dissimile troppo dai suoi pari superiori una suora omicida lussuriosa e manutengola rappresenta un parroco tanto vile che San Giovanni Bosco non glielo perdonerà mai non dice una parola nella sua lunga vita a difesa del pontificato romano e nonostante tutto questo i cattolici lo considerano lo scrittore cattolico per eccellenza ed è così perché così è stato spinto stato proposto è stato diffuso è stato insegnato nelle scuole perché evidentemente serviva serviva questo un'ultima considerazione sui promessi sposi il grande assente nei promessi sposi è il Cristo se ci ripensiamo proviamo a ripensare i promessi sposi quando li abbiamo studiati a scuola magari andiamo anche a risfogliarsi non dico a rileggerceli perché è una penitenza troppo grossa l'ho sempre trovato anche tanto noioso questo romanzo ecco il Cristo non appare non appare c'è sempre questo accenno a Dio il Dio la divina provvidenza ma non c'è Gesù e questo la dice lunga su quella che è una mentalità che si sta avviando verso una sorta di deismo perché ripeto non si tratta di propugnare l'ateismo i più intelligenti tra i rivoluzionari non propugnavano l'ateismo propugnavano una religione svuotata e Manzoni non arriva a fare questo perché comunque è o si deve proporre come cattolico quindi non arriva a fare questo però questo svuotamento di un romanzo cattolico o appunto detto cattolico della figura più importante ovviamente del cattolicesimo che qual è se non Gesù ecco questo ce la dice lunga allora Gesù non viene mai nominato appare in due momenti nel tomo dei promessi sposi appare in due momenti quando nella conversione dell'innominato Manzoni dice incalzato da Dio si piega al disonore del Golgotha quindi ovviamente il Golgotha ci riporta Gesù però non lo nomina e poi quando Federico Borromeo parla un po' sgridandolo a Don Abbondio nel capitolo ventiseiesimo in conclusione lo richiama non fate che mi abbia a chiedere pronto in quel giorno ad avervi mantenuto in un ufficio al quale avete così infelicemente mancato eccetera poi dice riprendiamo il tempo la mezzanotte è vicina lo sposo non può tardare teniamo accese le nostre lampade lo sposo con l'S maiuscola con il richiamo alle lampade delle vergini sagge nella parabola evangelica è un chiaro richiamo a Gesù ma sono gli unici due momenti in cui appare Gesù senza essere nominato quindi c'è una preoccupante assenza del Cristo nei promessi sposi compare beh sì Maria e Rosario attraverso Lucia questa devozione popolare questa sì lui la riconosce ma il Cristo è il grande assente quindi mi viene spontaneo anche pensare invece al paragone con un altro grande scrittore cattolico però molto meno utilizzato anzi quasi niente nelle scuole che è Guareschi in Guareschi il Cristo è sempre presente in ogni pagina addirittura parla quindi Guareschi è quello che veramente capisce la religiosità popolare degli italiani legati a un Cristo che entra nella vita e parla anche di cose di cose quotidiane anche con un tono ironico e un Cristo che partecipa ecco Guareschi è il vero scrittore popolare Manzoni è uno scrittore borghese che si allinea alla mentalità dominante dell'ottocento che il Cristo tende ad escluderlo in una visione che se è religiosa però va nella direzione di una religione astratta sempre più astratta quindi sempre più compatibile con le altre religioni in quella che era poi grande grande illusioni grande disegno la grande volontà delle logge massoniche dei pensatori dell'intellettuale del periodo che era poi quella di arrivare a una religione ovviamente comune per tutti dove il Cristo non ha più spazio chiaramente o se ce l'ha ce l'ha al pari degli altri quindi non ce l'ha in Manzoni c'è questa idea della provvidenza che non è neanche più la provvida sventura della Delchi che aveva comunque un valore per la conversione questa provvidenza nei promessi sposi a me sembra una provvidenza molto orizzontale molto legata alla vita terrena sia una generica idea che alla fine grazie a Dio il bene trionfa che in realtà non è neanche sempre così perché sappiamo che il principe di questo mondo fa sì che spesso i buoni nella vita non trionfino invece lui infarcisce spolvera tutto spolvera tutto con questa zuccherata di una provvidenza alla fine buona anche in questa vita per tutti ma che non ha un afflato soprannaturale che non non porta se non in rari casi come quello dell'illuminato dell'innominato di Fra Cristoforo a una una radicale conversione a una vita spirituale profonda quindi mi sembra comunque alla fin dei conti un'opera molto molto impregnata di quel jansenismo che d'altra parte Manzoni ha sempre frequentato Elena di tutti questi elementi che hai menzionato nei promessi sposi perché diciamo l'opera più più famosa e più conosciuta di Manzoni poi ci hai parlato anche di altre opere diciamo minori che comunque avevano già ai tempi questi elementi liberali e comunque favorevoli all'illuminismo mettiamola semplice ecco i personaggi diciamo i cattolici dell'epoca quelli radicati alla tradizione quelli che si stavano accorgendo del cambiamento in atto nella società ecco tu l'hai già accennato ma loro si sono resi conto che tutto quello che c'era poi nei promessi sposi effettivamente era in linea con i valori della rivoluzione francese e se così ecco come ci hanno fatto notare anche molte molte persone che ci hanno scritto in merito alla tua al tuo intervento a Napoli era Manzoni quindi massone visto che insomma gli elementi di questi di questi suoi romanzi spesso ecco sono molto d'accordo con quello che propone la massoneria e infine Manzoni era quindi un cattolico liberale penso che da un certo punto in poi se ne siano accorti tutti da una parte e dall'altra tutto è stato abbastanza chiaro il cattolicesimo liberale è stato uno dei grandi dei grandi metodi utilizzati per concupire il popolo italiano cattolico e portarlo verso le idee della rivoluzione altrimenti non ci sarebbe riuscita è stata una specie di arriete uno strumento da utilizzare un qualcosa da sfruttare Cavour in un discorso dell'aprile del 1861 a 9 era il Manzoni tra i liberali affermando che in Italia il partito liberale era il più cattolico d'Europa ed è chiaro era così non poteva che essere così serviva che fosse così perché in Italia erano tutti cattolici erano tutti devoti all'epoca e quindi non si sarebbe riusciti a proporre una rivoluzione che fosse semplicemente rivoluzione che mettesse subito sul piatto tutto quello che aveva in mente serviva una riete una riete che sfondasse le porte del mondo cattolico e questa riete è stata sicuramente Manzoni poi ce ne sono state altri Gioberti il neogolfismo Rosmini ma Manzoni anche in più con questa appunto capacità attraverso questo romanzo di entrare nelle scuole di essere conosciuto assolutamente da tutti non c'è nessuno che non conosca Manzoni mentre altri rimangono più una questione magari per interessati per addetti ai lavori Manzoni lo conoscono veramente tutti ha avuto un potere di influenza smisurato Manzoni ecco Francesco De Santis lo definiva il capo della scuola liberale e Benedetto Croce il capo della scuola cattolico liberale lui in realtà si definiva semplicemente liberale perché aveva sempre questa idea fissa che non bisognasse tirare in ballo la chiesa e la fede nelle questioni politiche quindi lui era chiaramente contrario appunto a qualsiasi influenza come ho detto della chiesa in questioni politiche quindi a maggior ragione al potere temporale del papa subiva l'influenza di Rosmini per quello che riguardava il liberalismo ma non in realtà per le cose buone perché Rosmini aveva fatto di interessante anche quello poi sfruttato per tacitare animi cattolici però almeno dal punto di vista logico pratico anche economico era un'idea buona quella della confederazione in modo meno peggio diciamo di fare l'unità d'Italia se proprio la si doveva fare chiamiamola così la confederazione era un'idea che avevano avuto in tanti ognuno dal suo punto di vista perché era un'idea logica per l'Italia quella di preservare comunque nell'unità quelle che erano le identità, le tradizioni i governi degli stati preunitari stati che da secoli si autogestivano tant'è che dopo l'unità molti si aspettavano che insomma lo stato poi si sfaldasse perché nessuno credeva fondamentalmente che un'unione di stati tanto diversi potesse reggere infatti era una cosa assolutamente innaturale quella del centralismo per l'Italia per cui Rosmini aveva fatto un buon progetto di confederazione che però Manzoni che di Rosmini accettava tutto guarda caso quello lo scarta lo definiva la brutta utopia da contrapporre alla bella utopia che invece era lo stato centralista di stampo giacobino quindi ecco con nessuno scrupolo per Roma perché lo stato centralista implicava l'andare ad attaccare Roma a togliere le terre al Papa ma su questo Manzoni come abbiamo visto non ha nessun problema e in una lettera del 28 febbraio del 1843 a Rosmini lui si definisce laico in tutti i sensi però è chiaro che il suo esempio di cattolico che sposa le idee liberali che è favorevole all'unità d'Italia che è contrario al potere temporale del Papa che è favorevole a Roma Capitale è chiaro che serve serve a tacitare le coscienze di tanti cattolici che in quel momento erano combattuti perché magari anche un cattolico che in buona fede avesse desiderato uno stato unitario comunque si trovava in difficoltà vedendo tutte le violenze e gli abusi che venivano fatti sulla chiesa Permettimi il paragone Elena Permettimi il paragone era un po' il grande influencer dell'epoca Sì, sì, sì quelli cattolici aveva proprio quello scopo lì infatti è servito tantissimo è servito tantissimo e non a caso probabilmente per questa ragione è stato spinto così tanto anche dalla massoneria ecco qui per entrare nel discorso manzoni, massone o non massone allora su una sua un discorso che si può fare anche per Cavour e che ho fatto anche per Mazzini su una effettiva affiliazione a una loggia non ci sono prove concrete non si sa in realtà ci sono dei siti anche di loggie che lo mettono manzoni anche tra i massoni illustri quindi può anche darsi che si fosse affiliato ma più che l'affiliazione a una loggia è importante quello che lui ha fatto nella logica massonica quindi spinto dalla massoneria perché serviva agli ideali massonici e lui stesso comunque non contrario a quelle che erano appunto gli obiettivi e le idee della massoneria quindi è importante quasi più questo della affiliazione in sé l'affiliazione in sé sì è una cosa sbagliata sappiamo che c'è la condanna dei papi addirittura la scomunica eccetera però in realtà tanti all'epoca purtroppo si affiliavano anche un po' per moda, per curiosità perché faceva elegante perché faceva intellettuale quindi abbiamo anche tanti affiliati diciamo incoscienti, inconsapevoli che poi neanche venivano coinvolti quindi tanti si affiliavano così per gioco stupidamente quindi è una cosa grave sappiamo che c'era anche la scomunica tutto però ancora più grave ancora più importante da considerare quanto invece uno abbia contribuito alla diffusione invece dei progetti e degli ideali della massoneria e questo sicuramente Manzoni lo ha fatto così come ancora di più possiamo dire Mazzini che pure sembra non fosse affiliato nel senso stretto della parola quindi bisogna valutare anche un po' più in grande che comunque poi magari Manzoni lo era ripeto ci sono dei 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 siti che lo danno tra i massoni famosi diciamo così lui agli ideali della massoneria è proprio servito ripeto per sfondare nel mondo cattolico con questa questo accostamento di due termini che in realtà sono completamente inaccostabili antinomici il liberalismo cattolico non esiste perché ossia cattolici ossia liberali anzi secondo la civiltà cattolica non esiste neanche il liberalismo di per sé non si può parlare di liberalismo se non come di un qualcosa di essenzialmente antireligioso leggo le parole precise della civiltà cattolica il quando ancora era la civiltà cattolica e mica quella di adesso ovviamente il liberalismo non è un sistema politico è un sistema antireligioso chi mantenendosi religioso intende però i fini politici dei liberali potrà chiamarsi illuso utopista matto anche se volete ma liberale no giacché il liberalismo consiste essenzialmente nell'antireligione quindi non ha senso effettivamente parlare di cattolicismo liberale eppure dall'ottocento in poi sappiamo che i cattolici ribellari sono diventati dapprima di gran moda e poi hanno preso il sopravvento il Manzoni scrive ancora la civiltà cattolica disse troppi sì alla signora rivoluzione mi viene in mente un saggio che Manzoni ha scritto quando aveva già 80 anni quindi quando aveva già visto tutto quando doveva avere le idee chiare quindi evidentemente lui era proprio convinto così lui scrive questo saggio paragonando la rivoluzione francese a quella italiana scrive la rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione italiana del 1859 osservazioni comparative in queste osservazioni comparative lui cosa arriva a dire? che la rivoluzione francese sostanzialmente ha fallito perché ha creato un sistema di governo instabile perché si è basata troppo sulla violenza sul dominio, sul potere, sulla propotenza la rivoluzione italiana invece del 59 ha creato un sistema stabile perché non è nata dalla violenza ma dalla superiorità del diritto che trova nel principio oggettivo e universale della giustizia la sua legittimazione allora, quindi Manzoni a 80 anni non conosceva le leggi anticlericali non conosceva le violenze che lo Stato italiano ha perpetuato nei confronti dei religiosi degli ordini religiosi di monache, frati le leggi siccardi non conosceva nulla mi viene difficile pensarlo ovviamente lui le conosceva ma gli andava bene così tra l'altro questa idea che la rivoluzione francese abbia fallito per eccesso di violenze che la rivoluzione italiana doveva presentarsi con metodi diversi con metodi più moderati con la parvenza della stabilità della giustizia eccetera è un'idea carbonara l'abbiamo vista altre volte anche in altre trasmissioni anche tra i documenti dell'alta vendita quindi a me sembra che Manzoni in realtà alla fine travestito da moderato travestito da cattolico e magari interiormente anche in buona fede ma abbia fatto assolutamente dall'inizio alla fine i giochi dei rivoluzionari beh ecco diciamo che anche mentre parlavi mi sono proprio venute in mente ecco le parole dell'alta vendita sul fatto che la rivoluzione francese sono finiti i tempi della rivoluzione francese era ora di agire diversamente e Manzoni era perfettamente allineato a questo tipo di modo di agire appunto Elena in conclusione ti voglio chiedere quali sono le valutazioni che sono state fatte su Manzoni in postum ecco allora Manzoni intanto va bene appena fatta l'unità d'Italia viene nominato senatore del Regno d'Italia all'inizio cerca di rifiutarci non è molto entusiasta ma perché come dicevo ha questi disturbi nevrotici per cui non vuole parlare in pubblico perché è balbetta non vuole uscire di casa se non accompagnato deve andare a Torino lui è impensabile quindi rifiuta ma poi insistono e alla fine lo nominano senatore ma andrà a Torino solo un paio di volte però parteciperà alla proclamazione del Regno d'Italia voterà a favore dello spostamento della capitale da Torino a Firenze che sappiamo che era poi il preludio per arrivare a Roma capitale quindi Manzoni è perfettamente d'accordo anche sull'idea di Roma capitale il 25 marzo del 1862 riceve a casa sua non per cercare di convertirlo ma per portargli i suoi omaggi per fargli tanti complimenti Giuseppe Garibaldi tanto che poi la civiltà cattolica ironicamente lo chiamerà da quel momento il senatore Garibaldino Vittorio Emanuele gli assegna una pensione a titolo di ringraziamento per il contributo dato all'Unità d'Italia e nel 1872 viene nominato cittadino onorario di Roma la Roma del 1872 è la Roma che ha cacciato il Papa è la Roma che ha per sindaco Ernesto Nathan grande massone è una Roma anticlericale dove è veramente difficile essere cattolici essere italiani c'è una vera e propria persecuzione dei cattolici che vengono di fatto emarginati e i cattolici reagiscono ritirandosi dalla vita politica e portando avanti quella grande protesta che più di tutte metterà in crisi lo Stato italiano e in queste circostanze Manzoni accetta la cittadinanza onoraria e continua a definirsi cattolico e italiano cattolico e liberale quindi Francesco V avrebbe detto sono quelli che tentano di stringere la mano al diavolo e tenendo in mano la croce allo stesso tempo quindi un atteggiamento assolutamente ambiguo che però poi è diventata come sappiamo la normalità e dei cattolici liberali più nono dice che fanno il vero fanno è vero professione d'amore e di rispetto per la Chiesa ma in realtà si sforzano di pervertirne la dottrina e lo spirito e allora se all'epoca qualcuno poteva ancora pensare che magari si potesse nonostante le violenze essere cattolici liberali noi adesso vediamo dopo 150 anni abbondanti vediamo il frutto e quindi non possiamo non possiamo più crederlo vediamo come a cosa a che livello tutte queste idee sono sono arrivate a pervertire la fede cattolica Don Davide Albertario aveva capito che era Manzoni lo aveva capito chiaramente scrive Manzoni non scorse o non volle scorgere l'inganno che la rivoluzione nascondeva dietro alle promesse di unità italiana egli pertanto non si unì ai difensori della fede lasciò in disparte gli alti interessi del cattolico e fece propri quelli della rivoluzione non rinnegò il cattolicesimo ma lo portò seco nel campo nemico questa immagine è bellissima lo portò seco nel campo nemico e questo è stato il grande danno entrare nel campo nemico perché finché si è fuori dal campo nemico si combatte quando si entra nel campo nemico è un problema quando muore nel 1873 la civiltà cattolica scrive solo di lui che sarà più celebre per il suo padre Cappuccino Fra Cristoforo che non per il titolo di senatore o per gli omaggi resi alla ciurma Garibaldina ecco questo è vero in due sensi lo vedo io in due sensi uno uno buono e uno meno buono allora il senso il senso migliore è che effettivamente Manzoni è rimasto più famoso per Fra Cristoforo cioè alla fine è rimasto più famoso per questo romanzo che in tanti hanno creduto cattolico e nel quale comunque tanti hanno trovato qualcosa di cattolico che non per il fatto di avere omaggiato i rivoluzionari e questa in sé è una cosa positiva perché poi effettivamente tanti tanti cattolici comunque hanno trovato del buono nella lettura dei promessi sposi e magari ci hanno ricavato qualcosa di buono il senso più cattivo è che però appunto questo ha fatto sì ha favorito lo sfondamento delle forze nemiche al cattolicesimo all'interno delle fila cattoliche quindi questo è sicuramente l'aspetto negativo ma per quello che riguarda quello buono non possiamo negare che c'è stato tutto un periodo nella storia italiana in cui Manzoni ha avuto comunque un ruolo nella formazione anche cattolica nelle nostre scuole e nel periodo diciamo del concordato con la chiesa nel periodo in cui si prova tentativo fallito noi oggi lo sappiamo ma all'epoca no magari può essere stato fatto in buona fede si tenta di ricostruire un'identità cattolica negli italiani con l'illusione che si potesse passare sopra alle violenze alla delegittimazione che durante il risorgimento è stata fatta la chiesa ripeto illusione che oggi vediamo che in quanto illusione fallita però c'è stato un periodo in cui ci si credeva tanto che Pio Nono proprio nel momento in cui c'è aria di concordato arriva a definire Manzoni mirabile scrittore profondo e coscienzioso pensatore quindi c'è un tentativo di salvare a quel punto il salvabile chiamiamolo così cioè fatta l'unità d'Italia a discapito della chiesa visto che non si può tornare indietro io non vedo perché non si possa tornare indietro però se non si può tornare indietro hanno pensato proviamo a risistemare quello che abbiamo a fare comusque sì che gli italiani almeno restino cattolici e in questo Manzoni sicuramente nelle scuole di quegli anni ha avuto una sua importanza tanto che oggi si parla e qui concludo con questa riflessione proprio legata agli oggi si parla di non di non insegnarlo più l'ho sentito dire si vuole eliminare i Manzoni dalle scuole un po' diciamo è già stato fatto perché un po' tutta la cultura umanistica tutta la letteratura la storia ormai nelle scuole sono passate in secondo piano ancora un po' i licei si salvano ma in realtà oggi quanto si studia Manzoni nelle scuole però c'è ancora nei programmi si parla addirittura di toglierlo perché perché comunque rimane di lui il fatto che almeno apparentemente questo romanzo sia cattolico quei veleni che erano stati inseriti e che sono serviti ai rivoluzionari dell'Ottocento hanno già fatto quello che dovevano fare hanno già esaurito la loro funzione quello che resta adesso è comunque troppo cattolico adesso che non serve più sfondare le fila nemiche rimane il fatto che è un romanzo che si dice cattolico e che comunque ha dei personaggi cattolici che parla di Dio che parla della providenza e quindi non va più bene perché adesso non serve più concupire i cattolici adesso serve eliminare il più possibile tutto quello che è cattolico e quindi Manzoni è destinato adesso probabilmente in futuro ad essere dimenticato come sappiamo la rivoluzione mangia i suoi figli cioè li usa e poi dopo quando non servono più li butta via e questo è sempre stato fatto e sarà sempre stato fatto quindi chi si vende si ricordi che si vende per niente perché prima o poi quando non servirà più verrà scartato mi hai tolto le parole di bocca con la tua conclusione ecco si capisce di come di come sia stato spinto anche sicuramente avrà avuto i suoi meriti ecco Manzoni lo conosciamo tutti o comunque la maggior parte di noi i Promessi Sposi sicuramente è un capolavoro ovviamente leggere fra le righe è un altro discorso noi abbiamo in mente il Manzoni che ci viene insegnato come maestro della lingua insomma è ovvio che poi andando più in profondità si scopre si scoprono tante cose di cui ovviamente neanche io sapevo e che spero ecco con questo video siano state ecco svelate a molti che purtroppo credevano ancora in un personaggio che stava dalla parte della Chiesa ecco così non era così non è stato e si capisce anche del perché sia stato mandato avanti lui e non altri personaggi come magari come giustamente giustamente detto tu Guareschi che invece di Gesù parlava tanto quindi ti ringrazio e ci vediamo ci vediamo volentieri grazie cari amici di Cronache di Ciole Terra anche per oggi è tutto vi ricordiamo di condividere i contenuti del canale per aiutarci a crescere e a diffondere sempre più la verità in più se ne avete la possibilità ecco sosteneteci anche con una donazione per permetterci di creare sempre nuovi contenuti come questo vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio grazie a tutti Grazie a tutti.